L'Italia è il paese più anziano del mondo insieme al Giappone, come età mediana. Infatti è un paese che, fortunatamente, potremmo dire, rigetta la guerra, ma non sarebbe proprio in grado, troppo logicamente, di farla sulla scala. L'Italia ha forze armate molto valide. L'Italia è uno dei paesi al mondo, e sono pochissimi, si contano sulle punte delle dita, che ha una porta aerei. Ne ha una e mezza, più o meno il numero che ha la Cina.